Ricordati di cliccare su Mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Mangiare prodotti, sulla carta Sicuri, non è mai del tutto una certezza. Quante volte capita di andare al supermercato, acquistare un certo prodotto e poi qualche giorno dopo sentire che il Ministero l'ha richiamato per l'allarme l'isteria? A quel punto si spera fino all'ultimo che il lotto incriminato non sia quello acquistato da noi. Negli ultimi anni, i casi sono in aumento e ogni volta aumenta la paura. In queste settimane, nei supermercati italiani, si sono registrati diversi ritiri di prodotti potenzialmente pericolosi. Quali sono i cibi maggiormente a rischio e le gravi conseguenze? Secondo quanto riporta l'Istituto Superiore di Sanità, i cibi potenzialmente più a rischio sono i formaggi molli, per esempio il gorgonzola. Il camembert e il brie. A rischio l'isteria sono anche i patè, il latte crudo, la verdura e la frutta. Ma anche il salmone affumicato, i salumi e più in generale, i cibi poco cotti. Insomma, una lista, affatto breve. I soggetti che invece rischiano le conseguenze più gravi del batterio sono gli immunodepressi, le persone debilitate e le donne in dolce attesa. Per quanto riguarda i sintomi, la situazione inizia a farsi preoccupante nell'eventualità di meningiti, aborti e forme setticemiche. Nei casi meno gravi, invece, la listeria causa spesso e volentieri forme gastroenteriche con qualche linea di febbre. Per eliminare il rischio di contrarre la listeria, il consiglio è di lavarsi le mani, pulire in maniera accurata i materiali e le superfici con cui vengono a contatto i cibi e cuocere gli alimenti. Inoltre, è importante rimanere informati sui richiami alimentari del Ministero della Salute.